E' stata solo l'anteprima, il festival vero e proprio prenderà il via martedì 2 luglio con tra gli altri gli antefatti, i blues crime e gli ogubini The Scouts. Goob Soc Rock Festival ieri sera però al Parco Rangiasci ha intanto salutato questa estate 2013 con le musiche dei Boxering Club, gruppo emergente romano composto da pochi ragazzi di appena 20 anni e il parco si è animato di musiche all'insegna dell'indie rock, del folk e di ritmiche impetuose. Grazie a tutti. Un festival che ha ottenuto il marchio regionale per le ecofest, le tre foglie che attestano per la regione l'attenzione all'ambiente. Le tre foglie sono un bel riconoscimento che arriva in fonda a un percorso che è stato fatto negli ultimi anni con il Goob Stock. C'è stata sempre un'attenzione legata all'ambiente, quindi al basso impatto sonoro e di rifiuti. Quest'anno ci siamo impegnati a costruire un progetto ancora più strutturato all'interno del quale abbiamo proposto per il festival delle azioni legate alla raccolta differenziata, l'attenzione sull'impatto sonoro e luminoso. Verrà utilizzato all'interno del punto ristoro del festival solo materiale biodegradabile. Per l'azione di comunicazione è stato prodotto materiale cartaceo con carta riciclata. Tutto questo è stato inserito in un progetto che è stato appoggiato dalla sezione SociCop di Gubbio, che ha sostenuto con un proprio progetto anche quello del Goob Stock e quindi insieme anche a associazioni e menti indipendenti il comune di Gubbio è riuscito a strutturare un progetto che è stato poi premiato dalla regione Umbria. Ciao, siamo i box di Cloud e volevamo ricordare di chi è? Goob Stock e Tigo!